E' stata una partita complicata per noi, è stata una partita difficile ovviamente contro una squadra atleticamente forte, tecnicamente forte, dove noi abbiamo messo ancora una volta purtroppo in campo una quantità di palle perse troppo elevata, con una quantità di palle perse così alta non c'è nessuna possibilità di vincere una partita come questa. Per contro siamo riusciti a rimanere sempre più o meno attaccati, abbiamo avuto rispetto a battipaglia la capacità di non farci travolgere definitivamente e questo è un segno importante, è un segno di crescita. Sono ragazzi che hanno pochissime esperienze e soprattutto hanno pochissimi minuti di paracanestro giocata dentro il campo. Ci vorrà tempo, speriamo che possano rapidamente acquisire un po' di confidenza con il minutaggio, con il livello troppo alto per loro e adattarsi perché poi tre o quattro di qualità ci sono. Questo siamo noi adesso e complimenti comunque a tutte e due le squadre, anche a Erdogan Basket che ha giocato un'ottima paracanestro in tutte le zone del campo. Noi abbiamo molto fallito in fase soprattutto di possesso palla perché abbiamo veramente gestito degli attenti.